Ritengo che il compito della comunità montana del Pianbello, in questo momento dove stanno sparendo le province, debba essere di coordinamento per le varie amministrazioni comunali, soprattutto per quei comuni che sono molto piccoli, sotto i 3.000 abitanti, tanto per intenderci, dove i servizi possono diventare un peso per l'amministrazione. Abbiamo creato una serie di sinergie che stanno già funzionando, che vanno dal sociale al tecnico e questo credo che debba essere il nostro futuro.